Intervengono quando il matrimonio va in crisi o peggio in cocci. Retruvail, ovvero una delle risposte che la comunità cristiana dà alle coppie quando vivono serie difficoltà. Ne parliamo con i coordinatori nazionali, con Paolo e Corrado Galaverna. In cosa consiste il vostro cammino, la vostra proposta? Retruvail è un'esperienza cristiana che fornisce un grande aiuto a una coppia che arriva in un momento di devastazione della propria vita matrimoniale in cui sta pensando alla separazione o al divorzio. Noi tramite un cammino esperienziale mettiamo a disposizione delle coppie la nostra personale esperienza. Infatti tutte le coppie che partecipano a Retruvail e poi scelgono di donare la propria esperienza lo fanno per aiutare altri avendo attraversato le stesse difficoltà. Perdoni, anche voi allora? Anche noi siamo stati una coppia con grandi difficoltà di relazione che è arrivata ad un passo dalla separazione dopo una grave crisi. Grazie al cammino di Retruvail abbiamo ritrovato la volontà, la forza per ricostruire la nostra relazione più bella e più forte di prima e attraverso il nostro impegno vogliamo testimoniare che la riconciliazione è possibile in una società in cui invece il messaggio proveniente dalla cultura in cui siamo immersi ci dice l'esatto contrario. Premesso che non è possibile semplificare fenomeni complessi ma dovendo individuare la radice peggiore che minaccia il matrimonio, la mancanza di dialogo, il tradimento sessuale, una combinazione di vari fattori? Alla base di tutto c'è la mancanza di comunicazione profonda, a livello di profondità la comunicazione manca assolutamente all'interno del rapporto di coppia. Non siamo capaci a comunicare realmente quello che sentiamo noi nel nostro cuore, questo che porta ad allontanarsi negli anni.